Nessuna molestia e nessun palpeggiamento, solo gesti affettuosi malinterpretati legati alla sua espansività sudamericana. E' stata questa in estrema sintesi la difesa di Juan, 37enne di origine argentina, maestro di tennis al Circolo Trave di Fano, ascoltato ieri nell'interrogatorio di garanzia al Tribunale di Pesaro. La sua vicenda ha creato sconcerto a Fano, dove tre suoi allievi minorenni dei corsi di tennis lo accusano di palpeggiamenti nelle parti intime. Accuse sulle quali ha indagato il commissariato di polizia di Fano e sulla base delle quali da giovedì è stata firmata l'ordinanza cautelare per gli arresti domiciliari di Juan. A firmarla il giudice per le indagini preliminare Antonella Marrone, che ieri ha interrogato il maestro di tennis. L'istruttore, difeso dall'avvocato Cristina Marrone, si è detto estremamente dispiaciuto per l'accaduto, ha ammesso dei contatti fisici con gli allievi in questione, ma sempre legati a contatti d'attività sportiva e da esternazioni d'affetto male interpretate come vaci sulla guancia che possono aver sfiorato le labbra. Atteggiamenti però mai legati a secondi fini sentimentali o sessuali. Due ore di interrogatorio, mentre le stesse forze dell'ordine stanno setacciando messaggi sms e via social. Nei prossimi giorni l'avvocato Ugolini valuterà se proporre un riesame della misura dei domiciliari. Intanto i tre ragazzi che hanno accusato l'istruttore hanno lasciato il circolo tennis, dove inevitabile è stato lo spiazzamento delle tante famiglie che frequentano uno dei principali poli sportivi della città. Prima del circolo trave il maestro Juan aveva insegnato tennis anche a Pesaro al circolo di Baia Flaminia con il quale nel 2019 le strade si erano separate per divergenze tecnico-sportive.